Ciao, sono Luca, lavoro in A2A Cicloidrico, una società del gruppo A2A con particolare focus sui temi del servizio idrico integrato e ancora più in particolare sulle tematiche inerenti al risparmio delle risorse idrica, alla ricerca delle perdite idriche e a tutte quelle attività che sono sempre più pressanti a seguito dell'emissione della qualità tecnica da parte di Arera. Ritengo che modalità di incontro tra i vari attori del servizio idrico integrato siano molto interessanti e a maggior ragione giornate di studio e di confronto effettuate con modalità simili a quelle della giornata di studio di Ravenna sono fondamentali sia per noi operatori che per fornitori e università per poter mettere a fattore comune competenze, conoscenze e modalità di lavoro. In particolare mi porto a casa da questa tre giorni molto intensa di presentazione di focus e di scambio di opinioni con colleghi, nuove idee per poter implementare nella mia realtà delle tecniche di lavoro nuove che possono portarci a importanti saving in termini energetici e di risorse idrica come richiesto dall'autorità per l'energia elettrica e il gas. Grazie a tutti!